Salve, qualche messaggio? Sì, sì, diversi. Grazie. Può mandarmi su dello champagne e delle fragole, per favore? Sì, signore. Room service per il signor Luis, prego. Oh, caro. Accidenti, mi si è smagliato il collà. E' fantastico, qui c'è un divano per due. La prima volta che vai in ascensore. Chiudi quella bocca, caro. Non ho potuto trattenermi. Calma. Calma. Nuovo Dacia Duster. A settembre fu da 5 euro al giorno, ovvero da 150 euro.